dal 1989 colore amico è il punto di riferimento in valsusa per il fai da te il mondo del colore e quello delle belle arti villardora va fiera delle sue realtà commerciali e colore amico è uno dei fiori all'occhiello per tutto ciò che riguarda la vendita al dettaglio e all'ingrosso di vernici e smalti prodotti per il restauro trattamento del legno vernici per la carrozzeria carte da parati rivestimenti murali pavimenti laminati e vinilici articoli di ferramenta e bricolage materiali per i cappotti termici prodotti per la pulizia nonché un reparto intero dedicato alle belle arti e all'areografia colore amico non è solo vendita ma soprattutto attenzione alla clientela tramite consulenze tecniche specializzate in scelte di arredamento e design sempre all'insegna di prodotti di alta qualità sikens graco oikos sono solo alcuni tra i brand partner dell'offerta professionale di colore amico che vi aspetta su due piani di esposizione e con un ampio parcheggio riservato colore amico è in via cumigna 2 a villardora facilmente raggiungibile dall'uscita villanoves della 32 torino bardonecchia da colore amico la qualità è sempre a portata di mano